Sto facendo un video Backstage Ciao Gabri, raccontaci di questa esperienza Questa cortometraggia Non ti si vede, non f***a, ma va bene L'ombra dei Guantoni Molto interessante Si tratta di pugili, cos'è? Raccontaci Devi tirarlo alzogliene A te lo sto chiedendo, no Enzo Dino? A te lo sto chiedendo Qui sono altri protagonisti del film Aspetta, aspetta Aprieta le bollette ragazzi Vai prendiamo Aspetta C'è mica Enzo La barista Enzo Cusate Ah, sei impegnato Come si fa così?